Buongiorno a tutti, sono Simona Stano, ricercatrice dell'Università di Torino e visiting researcher presso la New York University, al momento principal investigator del progetto di ricerca Marie Curie Confection, Communication for Food Protection. Sto registrando questo video perché oggi sarei dovuta intervenire nell'ambito degli incontri sul senso organizzati e diretti dal professor Massimo Leone che ringrazio moltissimo per questo invito. Come sapete, come misura preventiva nei confronti della diffusione del coronavirus tutte le attività didattiche sono al momento sospese e quindi, come altri colleghi prima di me, sto registrando questo intervento nella speranza che non vi siano troppi problemi tecnici e quindi di raggiungervi senza problemi. Mi spiace molto non avere occasione di confrontarmi con voi sugli argomenti di cui tratterò vedete però indicata qui in questa prima slide e la ritroverete anche in chiusura appunto quello che è il mio indirizzo email sarò felice di leggere e rispondere ad eventuali commenti o domande quindi vi invito a scrivermi nel caso in cui ne aveste senza però indugiare oltre partirei con questa presentazione dal titolo come vedete la pareidolia facciale come effetto di senso discorsivo e culturale il caso del cibo vedo che questa finestra dà un po' fastidio direi che forse la eliminiamo o almeno la riduciamo eccola per il momento e così riuscite a vedere meglio le slide e partiamo proprio da che cosa si intende con pareidolia termine derivato dal greco la pareidolia descrive quell'operazione cognitiva che tende a ricondurre a forme note e familiari oggetti o profili naturali o artificiali dalla forma casuale e confusa un esempio sicuramente noto a tutti è quello della ricerca di figure particolari nelle nuvole quindi guardando il cielo annuvolato si cerca di scorgere una figura particolare o a volte semplicemente questa figura si impone ai nostri occhi, al nostro sguardo trovate poi un altro esempio molto efficace nel mezzo dove appunto lo scarico di un lavandino diventa sostanzialmente la pupilla di un occhio e poi sulla destra un contenitore per la carta che evoca la figura di un noto personaggio politico dell'attualità figura che infatti è stato oggetto di numerosi meme che sono andati diffondendosi sul web qui trovate uno di quelli più diffusi ne trovate moltissimi a questo link spero ci sarà poi il modo anche di diffondere di condividere magari il pdf delle slide se no chi è interessato al link può scrivermi e avrò cura di inviare il link per ulteriori approfondimenti effettivamente si tratta di un fenomeno che ricorre moltissimo sul web spesso con intenti ironici qui trovate altri esempi più slegati dalla scena politica quindi da un microonde che capovolto per essere particolarmente felice a un biscotto in me molto triste per la situazione del mondo attuale insomma tutta una serie di immagini sino ad arrivare ad alcune tra le più recenti challenges in circolazione abbiamo poi degli esempi molto famosi di pareidolia sulla sinistra vedete un'immagine della Sacra Sindone di Torino dove proprio l'immagine rimasta impressa su questo lenzuolo, su questa tela pare richiamare la figura di un uomo poi nello specifico secondo alcuni riconducibile alla figura di Gesù Cristo altro caso molto famoso è quello del volto individuato su Marte nelle immagini fotografate nel 76 dalla sonda spaziale Viking 1 si tratta di formazioni rocciose che però sulle prime vennero appunto ricondotte da molti all'idea di un volto e quindi alla possibilità di forme di vita ovviamente su Marte c'è poi questa terza immagine che mi pare particolarmente significativa perché rimanda a una pareidolia comune in Asia ma non in Occidente per cui appunto è possibile scorgere sulla faccia illuminata della luna piena la figura di un coniglio seduto con un pestello da cucina trovate appunto il tratteggio per darvi un'idea di questa immagine si tratta di un'immagine pareidolica che rimanda all'immaginario mitologico dell'estremo oriente con varianti diverse in Cina, Corea, Giappone e così via e con un riferimento particolare a un racconto buddista per cui quattro animali adesso cerco di riassumerlo molto brevemente una scimmia, una lontra, uno sciacallo e proprio un coniglio avendo incontrato un anziano viandante insomma molto affamato si diedero da fare per trovargli del cibo la lontra riuscì a pescare del pesce grazie all'agilità scusatemi alle sue abilità lo sciacallo rubò del cibo da una casa incostudita la scimmia grazie alla sua agilità appunto riuscì ad arrampicarsi sugli alberi e prendere della frutta il coniglio non avendo queste competenze riuscì solamente a raccogliere dell'erba quindi molto dispiaciuto per questo si gettò nel fuoco e decise di donare la propria carne a questo viandante che si rivelò infine essere una divinità che commossa da questa eroica virtù dell'animale decise di disegnare la sua immagine sulla superficie della luna proprio perché fosse ricordato da tutti ecco perché vi ho raccontato questo aneddoto perché ci suggerisce qualcosa di molto interessante ci suggerisce che non si tratta di un immediato riconoscimento ma che c'è un substrato culturale che va certamente considerato teniamo questa osservazione insomma un attimo in un angolo andiamo avanti e poi come vedrete ci torneremo altri esempi famosi qui vedete le immagini dell'attentato alle torri gemelle dove secondo alcuni appunto proprio nell'immagine di questa nube che si sviluppò in seguito allo scontro dell'aereo con una delle due torri è possibile rinvenire il volto se non addirittura vedete anche in questo caso l'individuazione e anche il tratteggio la figura intera del diavolo ora quello che mi interessa nello specifico analizzare in questa presentazione è la pareidolia facciale quindi quegli casi di pareidolia ove l'attenzione sia al volto nello specifico poi occupandomi di alimentazione soprattutto tra diversi interessi di ricerca quello su cui mi soffermerò sarà proprio la pareidolia facciale in ambito alimentare quindi stiamo parlando per intenderci dei casi che vedete evidenziati sulla destra bisogna innanzitutto dire che il cibo è da sempre stato utilizzato per comporre facce anche proprio a livello di rappresentazioni volontarie intenzionali caso che sicuramente sarà venuto in mente a molti tra voi l'arcimboldo e le sue famose teste composte un caso particolarmente significativo anche molto studiato da diversi neuroscienziati è quello che trovate in alto a destra l'ortolano o ortaggi in una ciotola natura morta reversibile dove appunto se guardate in un modo l'immagine ci suggerisce appunto l'idea di una ciotola contenente diversi ortaggi capovolta ecco che troviamo l'ortolano quindi questo effetto pareidolico molti studi sono stati fatti su questo anche sul fatto che una volta che si guarda la seconda immagine non si percepisce più la prima nello stesso modo insomma tutte questioni molto interessanti ma che esulano un po' da quello che è il nostro interesse odierno altri casi in cui sicuramente vi sarete imbattuti la fotografia contemporanea è il cosiddetto food porn queste sono immagini molto tipiche in cui si utilizza il cibo proprio per ricreare l'idea di un volto chiaramente con tecniche ed esperienti molto diversi tra loro questo è un caso particolare il caso della chiesa pastafariana dove pensate addirittura il volto fatto di cibo diventa divinità e nello specifico questo mostro di spaghetti volante composto appunto da queste grandi polpette a formare le guance e poi insomma queste protuberanze che sono gli spaghetti appunto che addirittura intervengono nella creazione di Adamo come potete vedere e arriviamo anche all'ambito del food design per cui insomma sono ormai moltissimi gli oggetti in cui si invita a utilizzare cibo per comporre volti uno è questo che potete vedere di Mr. and Mrs. Foodface dove appunto quello che si fa è cercare di avvicinare i bambini al cibo proprio insomma creando dei volti o invitandoli a creare dei volti utilizzando la materia alimentare vi sono anche altri utensili di cucina che in qualche modo richiamano questo effetto di rappresentazione del volto con sul cibo sino ad arrivare appunto tostapane che permette di mangiare un toast con il volto di Gesù o di Bob Ross non so se lo conosciate è stato pittore e un famosissimo presentatore televisivo statunitense o addirittura di mangiare un toast con sopra un vostro selfie questi sono strumenti attualmente in commercio e anche abbastanza diffusi c'è poi tutta una serie di riti festivi che coinvolgono appunto la rappresentazione del volto sul tramite il cibo pensate insomma per fare uno tra gli esempi più famosi alle zucche di Halloween e quindi al modo in cui appunto si ricrea il volto sulle zucche lo dicevamo però in partenza quello che ci interessa qui non è tanto la rappresentazione volontaria quanto l'emergere spontaneo involontario e quindi qui avete alcuni esempi adesso proveremo a soffermarci su alcuni casi di studio particolarmente significativi per cercare di rispondere a queste domande fondamentali che in qualche modo ci aiutano a capire quali sono i processi di significazione soggiacenti alle immagini facciali non artificiali chi o cosa ne è l'autore è possibile ricondurre queste immagini a qualche forma di intenzionalità qual è il lettore modello che prospettano e quali gli effetti di senso che producono queste saranno appunto le domande che proveremo a fare a porci analizzando degli esempi concreti ora al di là della rappresentazione va detto che anche la pareidolia facciale è un fenomeno molto comune nella cibo o gastrosfera che dir si voglia pensate che già nel 1997 il famosissimo late show David Letterman dedicò una puntata alle pastries that look like celebrities a questi dolci queste paste brioche che assomigliano alle celebrità vi chiedo di avere un po' di pazienza e seguire questo estratto ecco qui vi ringrazio per la pazienza e mi spiace molto per la scarsa qualità di questi materiali ma essendo un po' datati questa è l'unica versione che sono riuscita a trovare senza sottotitoli ma mi auguro si sia compreso insomma il senso di questo estratto in cui come abbiamo visto Letterman e Sheffer parlano e cantano sarcasticamente di paste che sembrano celebrità prendendosi in qualche modo gioco della pareidolia facciale suggerendo che fondamentalmente si potrebbe individuare qualsiasi volto in qualsiasi brioche o pasticcino qualsiasi dolce in generale e rappresentando quindi la pareidolia come una sorta di mania questo è il termine che viene usato propensione del tutto americana in passato in effetti la pareidolia pensate era considerata una vera e propria ossessione addirittura un segno patologico e più specificamente un sintomo di psicosi tuttavia la ricerca ha dimostrato che non solo è un fenomeno umano normale ma anche molto comune che sembra essere collegato a ragioni di tipo adattivo vi ho riportato qui la citazione da uno studio neuroscientifico quindi siccome è molto più alto il costo che risulterebbe dalla non individuazione di un volto ecco che abbiamo questa tendenza a individuare facce laddove vediamo informazioni visive ambigue si tratta tra l'altro di un fenomeno molto più ampio che riguarda proprio il percepire qualcosa piuttosto che nulla quindi normalmente guardando insiemi confusi si cerca sempre di trovare un senso in questi insiemi confusi ed è quel fenomeno a cui si fa riferimento col termine apofenia che Corrad descrive come immotivata visione di connessioni accompagnata da una anormale significatività e quindi insomma questo per dire come insomma ironicamente ci dice questa questa immagine che se potete vedere delle immagini in questa in questa fotografia probabilmente qui suffering il termine inglese è molto efficace soffrite di qualche forma di pareidolia facciale e quindi avete un cervello che funziona benissimo in effetti insomma al di là dell'ironia c'è una realtà pare esservi una realtà fisica materiale che soggiace alla pareidolia che è l'attività di un'area particolare del nostro cervello chiamata area facciale fusiforme destra che pare svolgere un ruolo chiave tanto nell'elaborazione di volti reali quanto nella percezione illusoria dei volti proprio partire da questa constatazione si sono sviluppati numerosi studi sulla pareidolia devo dire purtroppo quasi esclusivamente in ambito appunto neuroscientifico e quindi con un'attenzione rivolta soprattutto a quelli che sono i processi biologici e chimici che soggiacciono questo tipo di fenomeno senza considerare ad esempio quelle che sono le dinamiche culturali che lo caratterizzano e insomma lo influenzano la pareidolia infatti non bisogna dimenticarlo è un processo interpretativo perché le immagini non contengono le fasi la pareidolia è chiaramente necessaria l'involuzione del potere interpretativo per dettagli e incontri le fasi di creare un match con l'interno face representation quindi questo processo interpretativo è molto importante e però spesso tende ad essere in qualche modo diciamo non considerato o non considerato adeguatamente in questo tipo di studi questo è proprio quello che vorrei fare a partire da questo intervento ora nel momento in cui mi sono concentrata su una serie di casi di studio la prima differenziazione che si è imposta è quella tra facce pareidoliche generiche e facce pareidoliche specifiche partiamo da questa prima categoria le facce pareidoliche generiche si tratta di un tipo di immagine largamente diffuso sul web e in particolare sui social media se voi fate una ricerca con gli hashtag I see faces face pareidolia pareidolia e simili ecco il numero di immagini che troverete sarà davvero altissimo è davvero il cibo e va per la maggiore in questo tipo di immagini ora perché facce pareidoliche generiche perché quello che troviamo in questo caso è una sorta di grado zero del volto non c'è nessuna specificazione in genere ve ne sono davvero pochissime infatti in termini di genere età identità personale e così via percepiamo volti a partire da una particolare configurazione plastica per cui tendenzialmente abbiamo due linee o elementi circolari posti nella parte superiore in modo simmetrico rispetto a un elemento sottostante che può esserci ma in alcuni casi anche non esserci che individuiamo come il naso mentre prima chiaramente facevo riferimento a quelli che riconosciamo come gli occhi naso appunto elemento centrale mentre in una posizione inferiore troviamo normalmente una linea più linee o una forma variamente strutturata che rimanda alla bocca la cosa intera e poi chiaramente vi sono anche elementi cromatici che concorrono a questo effetto tutta una serie di aspetti molto interessanti che plasticamente appunto concorrono a questo effetto pareidolico la cosa interessante è che questi elementi suggeriscono altresì una particolare caratterizzazione emotiva o patemica non abbiamo qui volti abbiamo volti felici volti particolarmente felici quindi facce che ridono facce che sorridono volti ammiccanti volti arrabbiati volti spaventati e insomma chi più ne ha più ne metta questo è molto interessante scusate e ha interessanti effetti di senso il cibo cessa infatti qui di essere una materia inerte un semplice oggetto subordinato all'intenzionalità di chi lo mangia o lo cucina per diventare suo stesso provvisto di agency di agentività poiché realizza la costituzione quella che si chiama la costituzione dell'osservatore in un soggetto patemico e quindi di lì il passaggio alla fase di disposizione al dispiegamento di quel programma passionale canonico che è stato descritto da Grimas e Fontanigli e chi di voi si è imbattuto in lezioni o letture di semiotica delle passioni sa di che cosa sto parlando o perlomeno quello che succede è che il cibo sembra essere qui dotato della capacità di esprimere i propri sentimenti quindi una forma di soggettività forse potremmo dire in ogni caso il risultato sembra influenzare sebbene parzialmente e generalmente solo temporaneamente il programma narrativo di chi cucina o mangia come sostiene in modo molto interessante Massimo Leone in On the face of food infatti A face can hardly become food Una faccia difficilmente può diventare cibo Most cultures in their respective languages do not conceive available vegetables and non human animals has been in doubt with a face D'altronde si tratta di un fenomeno abbastanza riconosciuto tant'è che nelle comuni rappresentazioni rivolte a sensibilizzare ad esempio i consumatori nei confronti del consumo di carne uno degli espedienti più utilizzati è proprio l'enfasi sul volto come potete vedere in questo caso poi con embriage molto marcati a livello tanto visivo quanto anche linguistico altri espedienti come l'attribuzione del nome proprio insomma tutta una serie di questioni molto interessanti ma che esulano un po' da quello che è il nostro interesse al momento quindi questo è un tipo di rappresentazione in cui sicuramente vi sarete imbattuti un altro caso particolarmente significativo è il film d'animazione Sausage Party che non so se abbiate visto nel dubbio vi mostro se riusciamo un breve strato ecco qui fossimo fatti l'uno per là è magnifico oh sì sono il primo trovo a entrare nell'eternità ehi patata vai così amico sa qui felice felice oddio i miei occhi oddio la mia pelle ecco qui al di là insomma del linguaggio un po' colorito e delle specifiche di questo testo quello che mi interessava mostrarvi è insomma qualcosa che trovo particolarmente significativo in questo caso ossia l'attribuzione di un volto anche a sostanze che non insomma ad alimenti che prima di diventare tali comunque non lo avevano il volto e la conseguente proprio associazione con lo avete sentito i bambini quindi anche tutte questioni legate a spiritualità soggettività una serie di elementi che insomma Massimo Leone sempre nel saggio di cui parlavo prima mette molto ben in evidenza ma torniamo alla nostra pareidolia quindi dalla rappresentazione che abbiamo considerato per un attimo ci rispostiamo a questa involontaria emergenza dicevamo un programma narrativo alterato seppur temporaneamente noi insomma possiamo facilmente immaginare che chi stava cucinando o mangiando si sia temporaneamente fermato anteponendo la logica del food porn su quella dello stomaco per fare una foto o anche solo per guardare contemplare questo effetto pareidolico e quindi appunto immaginiamo però una variazione temporanea dopodiché possiamo benissimo immaginare che dopo essersi fermati per fare la foto o per guardare con attenzione queste immagini siano tornati a mangiare gli alimenti che stavano mangiando prima quindi risemantizzandoli quindi in virtù proprio di questo programma passionale attivato di cui abbiamo parlato e però rimane un quesito di fondo molto importante chi è l'autore di queste immagini sicuramente non è il soggetto che cucina o che mangia è vero che in alcuni casi pensate ad esempio qui al cetriolo o anche alla cipolla l'immagine pareidolica in qualche modo risulta da un taglio che è stato effettuato da questo soggetto d'altra parte ce lo ricorda molto bene il modello illustrato da Landoschi siamo qui nel regime dell'alia dell'accidente non è stato il risultato di una buona manipolazione di una programmazione è stato un prodotto del caso o tutt'al più della natura che ha disegnato il cibo se vogliamo in modo tale da appunto creare questo effetto pareidolico tra l'altro sul tema della natura come artista ci sono numerosi studi rimando tra i tanti di nuovo un interessantissimo lavoro del professor Leone e tant'è che nei casi in cui delle manipolazioni evidenti ci sono più o meno marcate come vedete in questi casi con espedienti diversi gli effetti di senso cambiano radicalmente e ci spostiamo di nuovo più verso l'ambito della rappresentazione che è quello propriamente detto della pareidolia ma passiamo alla seconda categoria che vi ho menzionato prima e alle facce pareidoliche specifiche qui abbiamo dei casi un po' diversi guardate questo ad esempio è il famoso nan ban un dolce alla cannella cucinato presso il bongo java coffee shop a nashville negli Stati Uniti nel 1996 dove proprio un cliente in qualche modo individuò una somiglianza con madre Teresa di Calcutta di lì in poi insomma questo nan ban è diventato un vero e proprio oggetto di culto c'è addirittura un sito web se cercate online non lo trovate molto facilmente tra l'altro ha avuto una storia molto travagliata per cui appunto scoperto è stato messo sotto vetrinetta poi è stato rubato nel mezzo ci sono state anche questioni legali con persone vicine a madre Teresa di Calcutta che non volevano che la sua immagine venisse utilizzata proprio in un ambito insomma profano come come questo tutta una serie di aneddoti di questioni molto molto interessanti quello che ci interessa in quest'ambito è che non è solamente una pastry che rimanda a un volto generico ma in questo caso in riferimento a un personaggio specifico un'identità specifica a madre Teresa di Calcutta un po' come gli esempi che prima mostrava Letterman ironicamente si passava da Al Gore a Chuck Norris e una serie di altre celebrità altro esempio molto famoso sandwich al formaggio di Diana Dizer Diana Dizer intenta mangiare questo panino a un certo punto si rende conto che su di esso c'è l'immagine della Vergine Maria smette allora anche in questo caso di mangiarlo e lo mette al sicuro appunto contornandolo del cotone che vedete qui tra l'altro altro caso molto interessante la cosa non si esaurisce qui lei riesce ad avere una serie di vincite incredibili in Casino aiutata da questo oggetto magico potremmo dire e pensate a un certo punto poi decide che insomma la sua fortuna va bene così è ora di condividere questo oggetto miracoloso col mondo tant'è che nel 2004 lo mette in vendita su ebay pensate che alla fine l'asta si è chiusa con 28.000 dollari pagati dal Golden Palace Casino per avere appunto questo sandwich altro esempio ci spostiamo insomma verso un altro tipo di celebrità se così vogliamo dire in un ambito un po' più profano abbiamo qui il Royal Jelly Bean nel 2011 quando Kate Middleton stava per sposare il principe William una coppia britannica trovò quello che potete vedere qui il suo ritratto su una caramella che poi fu venduta all'asta con cifra iniziale di 500 sterline credo che si chiuse a poco di più e chiaramente insomma dalla Vergine Maria a Kate Middleton i prezzi cambiano e i casi sono davvero molteplici avete qui il pancake con Gesù Cristo un'immagine di Gesù Cristo rimasta in un residuo appunto di cibo bruciato su una padella WP Goldberg in questa cipolla di nuovo Trump che è davvero molto presente negli esempi di Pareidolia con questa pannocchia di nuovo con questo meme ironico diffusosi su social media e così via sono anche in questo caso davvero molteplici i casi e in alcuni casi è un po' più complicato accedervi in altri no perché è già solo la letteratura di base sulla Pareidolia a molti soprattutto i primi che vi ho mostrato fa riferimento e la cosa interessante occupiamoci di nuovo degli effetti di senso che scaturiscono da queste immagini la cosa interessante rispetto alla materia alimentare è che qui raggiunge un picco di inedibilità incommestibilità lo abbiamo detto prima Diana Dizer stava mangiando il panino e ha smesso di farlo il Namban non è stato mangiato ma è stato messo in una vetrinetta tutti questi alimenti diventano incommessibili diventano proprio la negazione di ciò che si può mangiare perché perché non sono più il risultato del caso o della natura ma in qualche modo risultano da una sorta di intenzionalità trascendente più o meno terrena insomma a seconda dei casi e quindi cosa succede succede addirittura che vengano in qualche modo percepiti come indici di questa trascendenza questi queste immagini sono in qualche modo delle effigi prodigiose dei simulacri che appunto non sono più da mangiare da consumare ma al contrario da proteggere e conservare questo non tanto per frenare il decadimento tipico della materia alimentare che come sapete insomma a seconda poi delle diverse sostanze appunto va incontro a un vero e proprio deferimento perché pensate addirittura in questo è davvero prodigioso il sandwich di Diana Dizer che per dieci anni pur non essendo stato trattato in nessun modo non ha mostrato alcun segno proprio di decadimento non ha non è ammuffito minimamente e quindi l'unico intento quindi è come se l'effetto paridolico in qualche modo inserisse la materia alimentare in un regime che chiameremmo di duratività se facciamo riferimento alla semiotica aspettuale quello che insomma ci porta a dover proteggere e conservare questi effigi prodigiose questi simulacri è il fatto che appunto non si tratta più di mangiarle non sono più sostanze da mangiare ma il fine ultimo è diverso è la contemplazione e la venerazione pensate che addirittura in alcuni casi abbiamo qui quelli che vengono chiamati omina dei presagi dei segni divinatori addirittura dei miracoli vi raccontavo prima appunto di Diana Dizer e delle sue vincite straordinarie al casino nel caso della Nalban addirittura pensate che la proposta del Bongo Java Coffee Shop era stata quella di utilizzare il Nalban per provare proprio la beatitudine di madre Teresa di Calcutta era uno dei suoi miracoli questo è stato un punto su cui poi i legali di madre Teresa di Calcutta hanno molto insistito chiedendo appunto che le due immagini venissero totalmente svincolate l'una dall'altra la cosa interessante però quindi è che facendo riferimento alla tripartizione dei segni di Peirce quello che viene visto in questi alimenti è una forma di indicalità sono indici della trascendenza tant'è che appunto vedete qui questa vignetta ironica che ho inserito dove Gesù Cristo si interroga sul problema della fame del mondo e su come mostrare agli esseri umani che lui è molto preoccupato per questa cosa e la risposta è Jesus appears un grilled cheese sandwich quindi di nuovo chiaramente in qualche modo facendo il verso un po' alla pareidolia bisogna però fare molta attenzione perché? perché non si tratta di semplici alimenti dove in qualche modo si percepisce un indice della trascendenza perché si percepisce si percepisce questo indice della trascendenza lo si percepisce perché questi alimenti assomigliano alla divinità o insomma le celebrità qui per semplicità incorporiamo queste figure sono delle icone devono somigliare alla divinità questo è molto interessante perché torno a rimarcare proprio quell'attenzione alla cultura che in qualche modo richiamavo in apertura ma che abbiamo detto è spesso trascurata negli studi sulla pareidolia e richiama proprio il problema dell'iconismo qui vi ho inserito una citazione molto significativa da un testo di Eco del 1970 il problema dell'iconismo è un problema su cui la semiotica si è molto interessata soprattutto appunto negli anni negli anni 70 poi dopo un po' insomma caduto dalla scena principale ma che continua a essere davvero una questione fondamentale rispetto ai processi di significazione scrive Eco l'avere sostenuto come quasi sino ad oggi si è fatto che il segno iconico è qualcosa di simile agli oggetti spontaneo fondato su rapporti analogici ci impedisce di analizzare il segno iconico come prodotto sociale e cioè come oggetto di convenzione e quindi ci impedisce di vederne la storia di esercitarne il controllo di metterne in luce gli eventuali spessori ideologici quello che ci dice Eco è normalmente l'icona viene colta come un segno che rimanda immediatamente per somiglianza all'oggetto tant'è che appunto quando studiate la tripartizione appunto dei segni di Peirce si insiste molto su questa analogia su questa somiglianza aspetto molto importante di cui tutti i manuali e su cui tutti i manuali insistono e in questo vi rimando anche al manuale del professor Bolli che molti di voi avranno avuto occasione di leggere la cosa importante è che appunto non si tratta di una relazione naturale spontanea ma di qualcosa che è basato su convenzionalità noi apprendiamo l'iconismo voglio ad esempio cita proprio il caso dei bambini dei giochi con le forme e il bambino che impara progressivamente a riconoscere appunto la somiglianza tra la forma che si ha sul gioco e quella dell'oggetto che bisogna inserire nel gioco poi ci sono tutta una serie di questioni molto interessanti su tridimensionalità bidimensionalità insomma non mi soffermo su questo ma vi rimando proprio al al manuale del professor Bolli ma in generale agli studi che sono stati fatti su questo tema ecco in primis Polidoro ci ha lavorato negli ultimi anni quindi vi rimando a questi testi quello che però mi interessa sottolineare qui ecco abbiamo parlato di indici abbiamo parlato di icone non bisogna dimenticare che queste immagini sono simboli sono convenzioni sono basate su convenzionalità questa somiglianza non è qualcosa di naturale ma è qualcosa di profondamente radicato nella cultura ecco parla di spessori ideologici ci può essere e c'è un'ideologia che in qualche modo governa anche la selezione degli elementi di pertinenza e tutta una serie di questioni che adesso proviamo a vedere insieme considerate ad esempio appunto questo pancake che assomiglia a Gesù Cristo vi ho riportato in mezzo all'immagine che viene riportata tra l'altro cosa molto interessante normalmente quando ci viene detto questo panino assomiglia a questo pancake assomiglia a questa torta assomiglia ci viene sempre messa un'immagine a fianco per aiutarci appunto a individuare quelle pertinenze che giustificano questa analogia rimarcando appunto che si tratta di una relazione convenzionale simbolica secondo me la scelta ad esempio in questo caso non è particolarmente felice però vi ho riportato perché ci sono rappresentazioni di Gesù Cristo che a mio avviso funzionerebbero meglio per supportare appunto l'analogia questa è l'immagine che viene riportata ecco accanto non so se per questioni anagrafiche voi conosciate il personaggio raffigurato si tratta del cantautore italiano Francesco Guccini che insomma per un appassionato di musica poco devoto potrebbe essere il rimando primo di questo pancake quindi non a Gesù Cristo ma a Guccini stessa cosa con il nostro panino di Diana Dizer il rimando potrebbe essere ad esempio qui ho scelto un'immagine che mi pare particolarmente efficace a una meno celeste madonna quindi una più terrena madonna la cantante o anche all'attrice Marlina Dietrich che vedete nella foto più a destra quindi vedete di nuovo appunto l'influenza dei criteri delle pertinenze che vengono selezionate appunto per stabilire questa analogia e anche della di quella che siamo soliti chiamare enciclopedia delle conoscenze per cui un devoto su questo tra l'altro si è scritto molto soprattutto in termini critici persino polemici non tanto scientifici però è un'interessante individuazione della connessione tra quella che è appunto l'enciclopedia del lettore e effettivamente l'interpretazione che si fa di queste immagini ancora il Nampan per un bambino insomma che non possiamo immaginare un bambino che non conosce madre Teresa di Calcutta non ha perlomeno mai visto una fotografia ecco la sua enciclopedia forse gli farebbe più probabilmente scorgere nel Not Numban Maga Mago nella spada nella roccia piuttosto che Mr. Magoo quando si appresta ad andare a dormire quindi vedete effettivamente dei tratti che potrebbero giustificare questa analogia o ancora nella nella cipolla che vi ho mostrato prima potrebbe non scorgere WP Goldberg perché magari non ha mai avuto occasione di vedere l'attrice ma potrebbe scorgere una delle tartarughe ninja e potremmo andare avanti così anzi è un un gioco che potete fare con con le immagini che vi ho mostrato prima e con quelle che potete facilmente trovare online quindi la cosa molto interessante è che la riflessione sulla pareidolia ci ricorda proprio la necessità di abbandonare l'idea di una somiglianza oggettiva che non esiste un concetto tra l'altro in qualche modo già introdotto da Peirce Peirce a un certo punto parla di ipoicona poi però abbandona non approfondisce molto però insomma era un problema che chiaramente si era già posto e che poi è stato un po' abbandonato nella ricezione che le opere del semiotico e filosofo hanno avuto quindi la cosa molto interessante è che pur essendo una facoltà innata la pareidolia dipende anche dalle esperienze passate e dalla cultura del lettore appunto quello a cui Umberto Eco fa riferimento nei termini di enciclopedia dalle ideologie visive specifiche che in ciascuna cultura modellano il nostro istinto di riconoscimento delle forme visive e l'attribuzione di agentività che ne deriva questo appunto è in qualche modo messo in evidenza ve lo dicevo dalle immagini che normalmente vengono giuste apposte agli alimenti in cui si riconosce appunto questo volto specifico questa pareidolia facciale specifica ed è ulteriormente rimarcato da questo caso a mio avviso particolarmente significativo che fa riferimento a quelle culture nell'ambito delle quali il volto di Dio non si può raffigurare come ad esempio appunto l'Islam ecco in questo caso è interessantissimo perché se si vanno a cercare esempi di pareidolia riferiti alla divinità come vedete in questo caso Isis band for looking like Allah quindi gelati messi al bando addirittura perché assomigliano a Dio ecco qui non potendo raffigurare il volto da che cosa passa questa pareidolia questa somiglianza passa dal codice verbale e quindi qui trovate appunto quello che è il nome di Dio scritto in arabo quindi vedete molto molto interessante una conferma sicuramente di questo legame non oggettivo ma sicuramente convenzionale e a partire da questo proprio chiudo chiudo chiudendo anche un po' il cerchio e quindi facendo riferimento proprio al video che abbiamo visto in apertura dove Letterman insieme a lui Schaffer cosa fanno in qualche modo si prendono gioco della pareidolia forse lo ricordate prima l'ho rimarcato la descrivono una mania una propensione tutta americana ecco sicuramente un'esagerazione poi insomma anche il il format è insomma è strutturato in un certo modo quindi si insiste molto sul c'è un effetto iperbolico voluto e insomma manifesto chiaramente percepibile però ecco in qualche modo si che Letterman ci può dire ve l'avevo detto a mia volta qui ho usato un iperbole nel momento in cui appunto possiamo dargli ragione nel momento in cui è in qualche modo vera questa propensione perlomeno se la concepiamo come la necessità di considerare quelle che sono le gringie culturali che modellano la somiglianza l'analogia quindi quelle ideologie visive che appunto fanno in modo che siano pertinenti determinati elementi piuttosto che altri un posizionamento piuttosto che un altro eccetera vorrei quindi chiudere con un'osservazione che per certi versi appunto insomma mi auguro emerga evidente da quello che vi ho presentato finora ma che purtroppo rimane ancora ve lo dicevo parecchio trascurata negli studi attuali sulla pareidolia che non è solamente la rappresentazione del volto mediante il cibo nel nostro caso specifico essere convenzionale essere retta da relazioni simboliche ma anche l'emergenza non intenzionale di volti nella materia alimentare quella che abbiamo chiamato pareidolia facciale in ambito alimentare di qualunque tipo essa sia chiaramente lo vediamo in modo molto più marcato quando si parla di facce pareidoliche specifiche come in questo caso perché è lì che chiaramente le griglie culturali intervengono maggiormente ma lo è anche nel caso delle facce pareidoliche generiche dove comunque il riconoscimento passa sempre per determinati codici di rappresentazione per quelle ideologie visive che menzionavo in apertura ecco questo mi sembra un argomento molto interessante sicuramente da approfondire un argomento che ci ricorda appunto come appunto l'approccio neuroscientifico alla pareidolia è indubbiamente utile e interessante ma deve essere complementato con un tipo di analisi maggiormente attento a queste dinamiche culturali e appunto semiottiche di cui la scienza di cui mi occupo appunto e insomma primo diciamo il non non l'esperto ma si propone appunto di investigare quindi insomma questo è il mio invito le prossime volte che vi imbatterete in immagini di questo tipo e con questo appunto vi ringrazio molto per l'attenzione vi ricordo nuovamente appunto il mio indirizzo email simona.stano etunito.it al quale appunto potete contattarmi se avete domande o insomma volete scambiare commenti impressioni su questa presentazione e ringrazio nuovamente anche il professor Leone per questo invito e nulla vi auguro un buon proseguimento con gli incontri sul senso grazie